Sì. Buongiorno amici, sono qui in Austria, stavo guidando, a un certo momento mi è arrivato un messaggino, mi sono accostato nella piazzola vicino alla strada per rispondere ed un tratto ho visto passare un treno, malgrado che io ce l'abbia messa tutta non sono riuscito a filmarvelo, però è un treno che voi conoscete, perché è il treno che quotidianamente parte da Napoli e porta l'immondizia in Germania e in Austria, ce n'è uno che parte giornalmente anche da Roma. E sapete anche che loro sono doppiamente furbi rispetto a noi perché li paghiamo profumatamente per smaltire le nostre immondizie, le riciclano, creano energia alternativa e così appunto due volte speculano sulle nostre immondizie. Quello che non sapete è che quando passano per queste vallate tutta la gente ci prende in giro e dice guardate è un tren in Italia che passa e quello veramente è una cosa che ci deve far vergognare perché noi parliamo parliamo e non sappiamo neanche riciclare la nostra immondizia. La cosa che mi fa ancora più rabbia è che qualche anno fa Renzi ha detto se io riuscirò a governare per un paio d'anni non la Germania ma l'Italia sarà la locomotiva d'Europa. Adesso capisco a quale locomotiva si riferiva, quella dell'immondizia. Comunque malgrado Renzi, malgrado la cattiva politica ragazzi, buon fine settimana.